buonasera voglio fare questo video per dimostrare e testimoniare l'efficienza dell'offerta di broker per la telefonia nel mio caso la sim vodafone con giga illimitati premetto che abito in un paesino in provincia di ancona c'è la dsl in rame ma va come una lumaca ho provato aziende tipo eolo o simili ma niente da fare poi preso dalla dall'esasperazione ho trovato online broker per la telefonia e mi sono detto perché non provare a quel punto vi faccio questo speed test vedete voi come va considerate che domenica pomeriggio sono tutti tutti in casa con lock down collegati con team eolo eccetera sarei adesso avrei navigato a 2 mega guardate voi siamo a 30 io non so che dire il top un upload eccezionale un download considerate che questa mattina facevo 70 ho toccato anche i 100 mega una cosa incredibile quindi sono super super soddisfatto posso solo l'installazione diciamo con la spedizione della sim velocissima l'azienda è serissima io posso solo che ringraziarli per il momento niente vi posso consigliare di farla e provarla niente di più un saluto a tutti